alvaro o meglio biciclown come leggiamo qui sulla tua mappa la tua è una bellissima storia perché unisce bicicletta avventura scoperta animazione e quindi spettacoli per i bambini come come clown in giro per il mondo credo che non c'è nulla di più bello intanto tu sei spagnolo eri o sei un avvocato sei ancora eri eri un avvocato e un giorno hai deciso di prendere partire e iniziare a fare questi viaggi perché? perché capisci che hai una vita se tu non fai il tuo sogno in questa vita non lo fai di più quindi l'avvocato era una professione che mi portava soldi e mi tirava tempo adesso io sono le più ricci persone nel mondo di tempo non di soldi il tempo è la cosa più importante in questa vita nel tempo la libertà la felicità io sono la risercia di tutto questo quindi la ricerca della felicità che è fatta su due ruote quindi con la tua bicicletta con la forza delle tue gambe e girando praticamente tutto il mondo perché poi vedendo la mappa ci hai fatto vedere hai girato veramente tutti quanti i paesi e continui a girare e per un viaggio che è partito nel novembre del 2004 e finirà a novembre del 2017 quindi 13 anni in giro per il mondo e oltre ad andare in bicicletta fai anche altro fai la bicicletta per vivere io non ho tanti soldi come ho detto quindi con 250 euro per messe questo è il mio presupposto budget non posso dormire all'hotel e comunque nei camping non riesco a pagare 10 euro per giorni devo dormire al bosco alla foresta per volta alla chiesa e dormito al cementerio e dormito tante volte quindi è un viaggio più simple, devo comunque cucinare, alla cucina devo facere tutto, quando viaggiare in bicicletta è 5-6 ora per giorni, ma dopo devo cercare un posto per dormire, per me lavare, per cucinare, per scrivere dei libri che io favo. Quindi scrivi dei libri, qualcuno ce l'abbiamo anche qui, sull'Africa, chilometri di sorrisi, cosa ci scrivi in questi libri? Questa è la mia storia, il rincontro della persona, la cultura del paese che io conosco con il viaggio, sono libri che quando tu lo leggi ha un sentimento che la vita può essere intensa, se tu la prendi così, intensamente. Sono di storia per volta brutta, situazione pericolosa, ma per volta bellissima, di persone che non te conosce e che ti apre la porta della sua casa, ti dà tutto. e che io ho apprendito in questo giro che la persona più simile è la persona più ospitalaria, e che i paesi arabi sono le più ospitalarie del mondo, e che l'Africa come continente è il continente più ospitalario che io ho conosciuto. Bici, e l'abbiamo visto e ce l'hai detto, clown? Clown, e questo io era clown prima di andare in giro del mondo, faceva avvocato, il fine di settimana faceva il clown per soldi, per l'anniversario, e ho pensato di fare il clown per il mondo come un progetto di solidarietà, quindi il mio clown non parla, il mio clown non è per bambini, il mio clown è per tutto il mondo, è un spettacolo di 50 minuti che è fatto all'Africa per i rifugiati, è fatto lo stesso alla Grecia per i rifugiati della Siria, io ho andato alla Siria nel 2008, prima della guerra, e adesso ho l'opportunità di devolvere a questa persona della Siria che mi ha dato tanto un sorriso, e quindi questo spettacolo è fatto solamente per persona che ha bisogno di ridere, quindi non è fatto la strada per 20 persone, è fatto organizzato per 150 persone. Diciamo che in questi anni hai già percorso 200.000 km in bicicletta, che poi ovviamente puoi spostarti da un continente all'altro, usi altri mezzi, ma quelli non li hai contati, e sei arrivato a vasto, non è casuale perché sei tornato ad incontrare una persona che avevi già incontrato in giro per il mondo, e poi sei pronto a ripartire per i tuoi viaggi. Prima, quando è uscito dalla Spagna, uno vuole viaggiare per conoscere la piramide d'Egipto, la muraglia di Cina, ma adesso la mia motivazione è rincontrare della persona, e quindi questa ragazza, Ale, che è conosciuto a Cairo nel 2007, adesso lei è sposata a un bambino, e per me è un'opportunità di 10 anni dopo rincontrarla di nuovo, e non abbiamo il contatto per le email durante 10 anni, ma è sempre ok, Ale, ed è vasto, una volta si arriva a vasto, magari la rincontro, e quindi si è rincontrato dopo 10 anni, e questo mi ha successo tante volte con persone che ho rincontrato di nuovo dopo gli anni, e questa è la maraviglia del mondo, che quando tu percorri il mondo, il mondo è piccolo. Quindi adesso poi da vasto ti sposterai verso la Croazia, poi i Balcani, poi? Non lo so, la ruta è aperta, io non ho un navigatore, non ho presa, quando la persona del posto mi parla, oh, devi vedere questo, che bellissimo, ok, vuoi parlarmi, non ho niente, ma nada è fixo, perché penso che è più bello, è flessibilità, tutto è aperto, vediamo, so, devo tenere in conto, è il tempo, adesso l'inverno è quasi finito, quindi si può pedalare meglio, e poi il tuo viaggio, ci dicevi che ti riporterà in Spagna il 19 di novembre del 2017, qui hai segnato la data di inizio, e quindi... non sai che fare, io non ho una casa, io non sono pensionato, non ho niente, quindi vivere il presente, come ho fatto con il viaggio durante più di 13 anni, e la vita ha tanti plani per me, che io non ho bisogno di fare niente, la vita mi dirà che devo fare. E noi, se vogliamo seguirti, insomma, dopo averti conosciuto, possiamo seguirti su Biciclown, che è il tuo sito dove tu metti poi i video, racconti un po' il tuo viaggio e la tua storia, quindi possiamo seguirti nelle tue tappe. Comunque Facebook è Biciclown, ha più di 15.000 persone che mi seguono, ha YouTube, più di 5.000, io ho messo due video cada settimana, qui le persone potrebbero vedere come è questo di dormire alla chiesa, come è, io ho dormito a San Severo il giorno prima di arrivare qui a Caritas, gli ho trovato un padre, Andrea, che lui è stato demissionero a Benin, a un ospitale dove io è stato, gli ho fatto il spettacolo del clown nel 2005, quindi è bellissimo questo rincontro. Questi incontri casuali che però poi ti danno il senso di questo viaggio. E allora, buon viaggio, ti seguiremo per sostenerti anche da lontano nel tuo viaggio in giro per il mondo. Grazie a tanti.